Buonasera Lei è la dottoressa Felser? La prego di venire con me Ciao Alma, sono Tom Lieto di conoscerti, Alma Vogliamo sederci? Cosa posso portarle da bere? Il Bordeaux qui è della migliore qualità Un Bordeaux per lei? Sì Sei davvero una donna bellissima, Alma I tuoi occhi sono come due splendidi laghi di montagna in cui potrei annegare Tom, giusto? Per caso i complimenti non ti fanno piacere? Tu credi in Dio? Non credo che questo sia il luogo più adatto per discutere di questo argomento Hai una poesia preferita? Mi piace molto Rilke Giorno d'autunno, per esempio Sesto e settimo verso? Che il frutto giunga a maturare Spremi nel grave vino l'ultimo sapore Penultima lettera della poesia? E Qual è il senso della vita? Rendere il mondo un posto migliore 3587 per 982 diviso 731 4818,65116 Qual è la cosa più triste in assoluto che ti viene in mente? Direi morire da solo Hai voglia di ballare? Rumba! Le consiglio di cogliere l'occasione, dottoressa Felser Resterà sorpresa ?